Siamo con il mister del Montepaone. Mister, come hai visto questo derby oggi? È stato un derby che mi aspettavo molto agonistico. La squadra è stata antigenata, questa c'è alla pari, quindi il risultato è tutto giusto. Certo, fa male un po' prendere il gol nel finale, dopo essere stati in doppio vantaggio. Potevamo gestire meglio il vantaggio sul finale della partita. Cantel Gasperina, oggi fai tre gol a Stagliano, ti porti il pallone a casa. Mi fa piacere, anche se è un derby, una partita sentita, dove secondo me non c'è classifica. Perché è un derby sempre sentito e ci vuole un derby da tripla, diciamo, per accorciare il gol. Il Gasperina ci salverà? Penso non ci siano problemi di questo genere, perché siamo una squadra che lotta, lottiamo tutti. Vogliamo un unico obiettivo che è la salvezza e penso che su questo non ci siano problemi, anche se si deve lottare, per ottenere, l'abbiamo visto oggi, per ottenere un punto si deve sempre lottare.